Cari amici, volevo parlarvi del concerto del 24 gennaio al Teatro Sociale di Como per la stagione notte, con l'orchestra Quand du Qua, il maestro Cristian Frattima e il pianista Roberto Prosseda. Il programma sarà interamente dedicato al classicismo viennese, con un overtour di Salieri, la celeberrima Sinfonia 41 Jupiter e il doppio concerto per violino, pianoforte orchestra sempre di Mozart. Un brano poco conosciuto ma di una bellezza assoluta, iniziato nel 1778 da Mozart e completato poi nel 900 dall'inglese Philip Wilby. Cosa rende speciale questo concerto? Io amo dire che sarà una sorta di macchina del tempo nella quale chi verrà a sentire si ritroverà catapultato in un'epoca molto affascinante, cioè la fine del 700, del XVIII secolo. Ascolterete un forte piano, quindi uno strumento dell'epoca, in questo caso un Walter suonato a Roberto Prosseda, un violino montato in budello e ovviamente un'orchestra che è un'eccellenza europea come la Quand du Roi che suona esclusivamente su strumenti dell'epoca, con prassi filologica appunto dell'epoca e ovviamente l'accordatura a 4,30, un po' più bassa del solito. Quindi se volete fare un'esperienza particolare, entrare in una macchina del tempo e sentire quel suono particolare dell'epoca mozzartiana, noi vi aspettiamo il 24 gennaio alle otte e mezza al teatro sociale.